Buongiorno, vi presento una prima sequenza di base sulla quale cominciare a lavorare per sincronizzare le mani con i piedi, andiamo ad adattare il palcio basso, tolpiamo, cross, off, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, verso, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Bene, Questo serve per intercettare l'attacco circolare e questo serve per colpire contemporaneamente. Quindi non parate colpite ma fateli insieme. Una volta allenato questo lato, mantenete la stessa guardia e camminate l'acqua. Uno, due, uno, due. Alla prossima!